Si svolgerà domenica 6 giugno alle 10.30 nel Borgo Abbandonato di Roscigno Vecchia il convegno sul tema turismo cinofilo nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L'evento è organizzato dal Team Montepruno, associazione che ha l'obiettivo di promuovere la cultura cinofila secuggistica in collaborazione con la società italiana Prosecugio Zacchetti, l'ente nazionale cinofila italiana e con il patricinio dei comuni di Roscigno, Piaggine, Valle dell'Angelo e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L'evento è sostenuto dalla Banca di Credito Cooperativo Montepruno, sempre attenta al supporto delle iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo del territorio ed è patrocinato dal Comune di Roscigno. A fare gli onori di casa ci saranno il direttore dell'associazione Team Montepruno Francesco Palmieri, il sindaco di Roscigno Pino Palmieri e il direttore della Banca Montepruno Michele Albanese. Tra gli ospiti di rilievo attesi per il convegno che sarà aperto a cittadini, organizzazioni sociali, politiche, economiche e culturali, al termine del convegno vi sarà una degustazione di prodotti tipici. L'evento sarà l'occasione per mettere al centro dell'attenzione l'amore per i cani ma soprattutto per riflettere sull'importanza di un settore, quello della cinofilia, che rappresenta una fascia di mercato redditizia se si riescono a cogliere le opportunità che offre. Basta pensare alle possibili ricadute occupazionali ma anche alle possibilità di aumentare i visitatori sul territorio riuscendo ad attrarre i turisti che non si separano dai loro amici a quattro zampe durante le vacanze. Si tratta potenzialmente di un giro d'affari considerevole ma anche di un'opportunità di promozione del cilento che va colta.